Il tessuto produttivo nazionale ed in particolare quello della nostra regione è costituito per almeno il 95% dalle cosiddette PMI, piccole e medie imprese, che in più di un'occasione sono state definite come il vero e proprio motore dell'economia nazionale. Un motore però troppo piccolo per superare la salita della crisi economica, specie se manca il carburante rappresentato dal credito bancario, anch'esso in difficoltà a causa della speculazione in atto sui mercati internazionali, sui buoni del tesoro pluriennali. In merito a tutto questo si rifletterà nell'incontro organizzato dalla Confartigianato di Pescara venerdì 25 novembre nel padiglione ex cofa del porto turistico Marina di Pescara. Il titolo è Eloquente, il futuro del paese nelle mani delle piccole e medie imprese, che chiude con i tre puntini di sospensione stando a significare come sia necessario rivedere questo tipo di tessuto produttivo nella prospettiva di una aggregazione che superi aumentando la grandezza media dell'impresa, il nanismo più volte sottolineato dagli economisti che si sono occupati di studiare la produzione di ricchezza nel nostro paese. Qual è la ricetta? Le ricette probabilmente sono quelle ormai note, cioè nel senso che innanzitutto è necessario, la condizione fondamentale è che si sviluppi il paese, l'Italia, questo mi pare che sia il problema principale, che si riesca a trovare un nesso tra sviluppo da un lato e piccole imprese dall'altro lato, ponendo le piccole imprese al centro dell'attenzione delle politiche economiche regionali. Magari favorendo l'aggregazione? Questo è un dato fondamentale a mio avviso, noi soffriamo di nanismo, questo è ormai noto, l'aggregazione può avvenire in tante forme, può avvenire attraverso la rete di imprese, può avvenire attraverso le alleanze strategiche, può avvenire attraverso i consorsi, però un dato è certo che se non risolviamo il nodo del credito probabilmente andremo incontro a difficoltà di emarginazione delle piccole imprese sul mercato.